Benvenuti in questo nuovo video Anticipazioni di Pelosetti di Terra Amara dal 29 gennaio al 4 febbraio 2024. In questo video vi mostreremo le anticipazioni settimanali di Terra Amara. Lunedì 29 gennaio, l'incursione della polizia nell'albergo è il risultato di una macchinazione orchestrata da Betul. La donna mira a costringere Fikret a sposarla, con l'obiettivo finale di mettere le mani sulla ricchezza di Fecheli. Nel frattempo, Lutfai riceve una telefonata da Oseyin, il quale rivela che Abdul Qadir è il responsabile dell'omicidio di Ali Rahmet. Tuttavia, durante la chiamata, Vaap, fratello di Abdul Qadir, coglie Oseyin di sorpresa e lo uccide. Martedì 30 gennaio, Lutfai, dopo aver appreso dell'omicidio di Fecheli per mano di Abdul Qadir, si sente male e viene trasportata in ospedale. Al suo rilascio il giorno successivo, Lutfai discute della situazione con Sanì alla villa. Durante la conversazione, emerge l'idea che H. Mehmet potrebbe essere coinvolto nell'assassinio di Fecheli. In cerca di orientamento, Lutfai decide di consultare Betul per un parere legale. Betul la esorta a non intervenire direttamente e le promette che si occuperà personalmente della questione. Mercoledì 31 gennaio, Abdul Qadir e Vaap sbarazzano del corpo di Oseyin, gettandolo in un canale. Le autorità, successivamente, recuperano il cadavere e ipotizzano che Oseyin sia caduto accidentalmente nel canale in uno stato di ubriachezza, portando alla sua morte per annegamento. Nel frattempo, H. Mehmet rivela a Zuleya che Fikret ha sviluppato sentimenti per lei e la prega di schierarsi dalla sua parte. Betul informa Abdul Qadir dell'incidente con Oseyin e lo esorta a occuparsi di Lutfai per evitare che questa situazione porti a ulteriori indagini. Giovedì 1 febbraio, puntata pomeridiana, Abdul Qadir, insieme ai suoi complici Vaap e Cevde, elabora un piano per colpire Fikret. Quest'ultimo, credendo di aver scoperto droga in un camion appartenente all'azienda di Zuleya, accusa H. Mehmet di traffico di stupefacenti. Tuttavia, Vaap ha registrato il momento del ritrovamento e si prepara a manipolare il video per far apparire Fikret come il vero responsabile. Puntata serale Lofti e rimprovera Fikret per aver sedotto e abbandonato Betul, esortandolo a sposarla per rimediare. Tuttavia, Fikret confessa a Cetin di essere innamorato di Zuleya e non ha intenzione di sposare Betul. Quest'ultima consiglia a Lofti e di non indagare su H. Mehmet e Abdul Qadir, sospettando che siano coinvolti nell'omicidio di Fekeli. H. Mehmet suggerisce che sia stato Fikret a piazzare la droga nei camion dell'azienda. Zuleya difende fermamente l'amico. Durante un'indagine nel magazzino, sospettano di un dipendente. Zuleya e gli altri organizzano una festa sorpresa per la piccola Uzzum, durante la quale Gaffur le regala una carta d'identità affermando che è ufficialmente sua figlia. Nel frattempo, Fikret è tormentato dalla convinzione che H. Mehmet nasconda qualcosa. Tuttavia, sua zia sembra non prestare ascolto alle sue preoccupazioni. Zuleya va da Sermin per annunciare che Fikret ha intenzione di chiedere la mano di Betul. Il giorno successivo, Lutfai e Betul vanno a fare acquisti, ma Abdul Qadir organizza una trappola. Le due donne vengono sequestrate e minacciate da Abdul Qadir e suo fratello Vaap. Dopo essere state rilasciate, decidono di non informare la famiglia per evitare ritorsioni, ma scelgono di raccogliere informazioni compromettenti su entrambi da presentare al procuratore. Nel frattempo, alla villa, si avvicina la proposta di matrimonio di Fikret a Betul, ma quando arriva il momento, Fikret è introvabile. Venerdì 2 febbraio, Sermin è visibilmente irritata per il ritardo della famiglia dello sposo, scatenando una lite accesa con Betul a causa della forte tensione presente in casa. Alla fine, Cetin riesce a trovare Fikret e lo convince ad assumersi le sue responsabilità. Sabato 3 febbraio, dopo la proposta di Fikret a Betul, Sermin desidera organizzare una sontuosa festa di fidanzamento per dimostrare agli abitanti di Kukurova che i futuri sposi sono felici nella loro bolla d'amore. Tuttavia, Fikret non è affatto tranquillo, poiché non nutre alcun desiderio di sposare Betul a causa del suo amore per Zuleya. Nel frattempo, Abdul Qadir ordina a Vahap di rientrare a Ismir, considerando che le sue azioni hanno causato una frattura nei rapporti con il suo complice Akam Emet. La festa di fidanzamento è ben accolta da tutti gli ospiti, compreso Akam Emet, che è stato invitato dal sindaco. Durante l'evento, Akam Emet stringe la mano a Fikret. Nel mentre, Vahap fa irruzione nella tenuta degli Yaman. Ghaffur, che si trovava in cucina, sente rumori sospetti al piano di sopra e decide di andare a controllare. Domenica 4 febbraio, durante la celebrazione del fidanzamento tra Fikret e Betul, giunge la notizia di un'intrusione da parte di ladri a Villa Yaman. Ghaffur, sorpreso dai malviventi, viene ferito prima che fuggano. Zuleyha, Akam Emet, Chetine e Gulten si dirigono all'ospedale per controllare le condizioni di Ghaffur. Fortunatamente, le ferite sono superficiali e riguardano solo una gamba. Al termine della festa, Fikret e Lutfai si recano a Villa Yaman, dove Zuleyha e Akam Emet stanno collaborando con la polizia per fare chiarezza sulla situazione. Grazie per aver seguito questo video Anticipazioni di Terra Amara dal 29 gennaio al 4 febbraio 2024. Lasciate un like e iscrivetevi al canale. Ci vediamo al prossimo video.